sono d'accordo su quello che hai detto in merito a bong parasite mi è piaciuto ma è decisamente inferiore ai film precedenti del regista un film che secondo me potresti trovare interessante è I Saw The Devil di Kim Ji Won esattamente l'ho trovato interessante ti dico da subito che l'ho trovato molto interessante che però è un film che a un certo punto dirotta precipita anzi affonda si auto affonda da solo ma ci arriveremo perché il tuo commento mi serve per prendere a pretesto e levarmi qualche sassolino dalla scarpa anche per quel cosiddetto cinema coreano che adesso ha montato la testa di tanti e anche giustamente ma di cui non si mettono a fuoco certe cosucce soprattutto parlando per il regista di parasite che io segnalavo e quando lo segnalavo non mi cagavano sto parlando anche nella mia cerchia di quotidianità soprattutto con The Host che è un film fenomenale e stiamo parlando di film commerciali non c'è nessuna velletà autoriale se non un stilismo uno stilismo non è ancora un qualcosa di autoriale ci va vicino fatto sta che The Host madre sono film fenomenali il problema è che a me dispiace per Antonio 00 che so che apprezzato comunque si capisce parasite è un film in cui il nostro autore si vomita addosso arriviamo di nuovo al concetto del cinema coreano che io conosco in maniera infinitesimale ma si sta poco a vedere qual è lo stilismo questo questo gioco che si riflette si riverbera in tutti gli autori ecco perché dico che lo stilismo una cosa è l'autore un altro perché anche nella serie di hellbound che ho nominato nei commenti che una serie valida anche se questa si auto affonda da sola tanto per cambiare ci sono tutti gli stilemi che sono anche nell'autore di parasite così anche in questo film di kim ji un cioè i so the devil ci sono tutti gli stilemi che ci sono nell'autore di parasite questo a cercare di far intendere cosa significa avere un certo stilismo ed essere autori sono due discorsi diversi e questo ai so the devil si mangia a colazione parasite ma è un peccato perché questo film fosse finito nel momento in cui il nostro protagonista entrava nella casa degli orrori e finiva a sprangate finiva messo tra virgolette l'assassino della sua compagna e lo finiva lì a sprangate e da lì in poi gli servivano solo altri dieci minuti al film per chiudere il cerchio sarebbe stato perfetto ma vabbè chiamiamolo serial killer trova una ragazzetta per strada che ha bucato che poverina chiede aiuto ha chiamato il carattrezzi che ancora non è arrivato si propone lui la ragazzetta anche questo è segno intelligente del film non apre subito la portiera dice ok si mi dia una mano no sta al telefono con il suo ragazzo il quale in tempo reale sente cosa sta accadendo gli dice no non sta a aprire la porta questo aspetta che arrivi il carro attrezzi o chi cazzo deve arrivare e stai fermo infatti lei rifiuta di essere aiutata cosa molto intelligente nella maggior parte dei film chiamiamoli horror del genere subito le in qualche maniera si lascia incantare no non si lascia incantare tanto che che questo assassino deve prendere il sopravvento spaccare il parabrezza rompere tutto e ammazzare questa povera ragazza che si rivelerà essere incinta e da qui la vendetta del suo moroso che poi scopriremo essere un agente speciale molto particolare anche qui sembra banale come storia in realtà è solamente elementare e diverso potrebbe essere stata usata in tantissimi aspetti ma è giocata di intelligenza quindi cosa succede la vendetta tremenda deve essere qui si sposta il il registro e andiamo nello straordinario perché il nostro vendicatore inizierà una cernita di quelli che possono essere sospettati e senza pensarci troppo li mazzola tutti quanti è una cazzo di figata è una figata a livello stilistico figata a livello di scrittura del personaggio è una figata perché realmente politicamente scorretto e soprattutto le sequenze sono tutte quante plausibili nel loro gioco di quale sia il confine tra noi che nel vendicare giustamente una persona cara che è stata brutalmente assassinata non diventiamo anche noi stessi dei mostri perché questo era il nocciolo atomico di questo film che aveva preso in mano un nucleo magmatico che poteva plasmare perfettamente e invece cosa succede succede che più si va avanti e più in questo film di vendetta le forzature devono aumentare quando le forzature aumentano è come quando ci sono gli spiegoni significa che il film lo devono portare a un altro livello altrimenti la gente probabilmente non è contenta ed ecco che quindi l'autore non è diventa non è più autore e diventa un mano è una manovalanza al servizio dell'industria che seppur in un film fatto bene e di polso deve cedere a queste minchiate il film è recitato interpretato alla grande con tutti con tutti i sottotesti e le scritture dei personaggi di contorno fenomenali e veridicissimo emotivamente fortissimo la regia non gioca mai per farti per accalapiarti in maniera infantile è serio emotivamente tu riesci a sentire la vendetta in modo tragico non in modo pompato agli steroidi succede che poi questo cattivo questo assassino di turno ci prende tante di quelle sprangate sulla schiena e sulla testa e poi io me lo devo rivedere di nuovo all'ospedale che si riprende di nuovo questo riparte per una contro vendetta non ci siamo più non ci siamo più perché lì sono finite le energie della scrittura dei personaggi della vicenda e di tutto e poi al sono diventati i due protagonisti da due e da due caratteri della storia perfetti a due cazzo di supereroi torniamo a quei dieci minuti in più che avrebbero reso questo film perfetto e cioè nel momento in cui lui avesse realmente ucciso tutti avrebbe preso a sprangate l'avrebbe lasciato lì demente se non morto almeno demente su una sedia rotelle ci sarebbe stata quella quella prosecuzione della storia in cui lui si rende conto di essere diventato un mostro è auto automaticamente come natura vuole e collassa su se stesso poteva collassare da qui i bivi di cui parlavo prima impazzendo poteva collassare non trovando più una dimensione di valori poteva collassare con i familiari della vittima della della sua compagna la sorella il padre della sorella che cercavano di entrare in una solidarietà intelligente c'era una lezione dove un film così ben fatto all'inizio ti portava come dice nice attenzione a non scrutare nell'abisso perché poi sarà l'abisso a scrutare dentro di te questo film aveva tutte le potenziali per mettere in gioco questa dinamica invece le sputtana quando lo prende invece di ammazzarlo gli propina qualcosa in bocca gliela fa ingoiare a noi non interessa come non mi interessa in modo che dopo lo può seguire con con un cazzo di gps o quello che è e non lo uccide e cosa fa la storia cosa ci racconta che ogni volta che lui si troverà libero non sa neanche perché si aspettava di essere arrestato ammazzato ricadrà di nuovo nella tentazione di fare del male alle donne ed ecco che la gente il poliziotto speciale gli si ripresenterà davanti e lo gonfia di nuovo di randellate è bellissima come idea bellissima come idea di vendetta ma dopo questa cosa perde la misura il film così si svuota da solo di tutto quel nucleo magmatico di cui parlavo si svuota da solo si neutralizza da solo si sterilizza da solo e diventa un filmetto che all'inizio ti prende ti aggancia dici cazzo che figata e dopo di che non ti rimane soltanto che la memoria di qualcosa che poteva essere un capolavoro invece è soltanto un'operetta commerciale purtroppo da poco